ben trovato mister buon pomeriggio con la torres il rimini ha una buona tradizione perché sono una volta i sardi sono venuti romeo neri a fare bottino pieno nella loro storia e però il campionato ci dice che questa torres è una torre sono molto forte 47 punti contro i 23 vostri di colossi un ottimo attacco un ottima difesa la seconda miglior difesa quindi insomma diciamo che la storia di cerimini mentre il campionato corrente dice torres beh credo che domani in tal senso ci vorranno entrambi ricordare la storia perché giochiamo in casa perché comunque dobbiamo mettere in campo quella quello spirito e quel senso di appartenenza che comunque può dare un grande contributo e per quanto riguarda invece i valori dell'avversario citati da lei la dice lunga su quello che la potenzialità di una squadra che in un certo senso anche contro le aspettative ha trovato quelle annate quell'alchimia dove sta dimostrando di tappa in tappa di essere una squadra squadra molto forte in tutti i termini da un punto di vista individuale da un punto di vista collettivo di quella che è l'espressione di gioco e di quella che è la capacità di gestire le partite nei 90 minuti perché poi anche qualche risultato che stavano perdendo negli ultimi minuti finali sono riusciti a portare tre punti a casa quindi ci aspetta una prestazione completa in tal senso e cercheremo di essere all'altezza sono ottimista in tal senso perché poi al fronte di quella che è stata la settimana abbiamo preparato la partita con i giusti periodi delle giornate che abbiamo vissuto insieme degli allenamenti dove chiaramente ci sono stati confronti ci sono stati insomma accorgimenti ci sono stati allenamenti in grado di poter appunto arrivare domani ad una partita molto complicata e dove vogliamo essere pronti su tutti i fronti come sta rimini dopo queste tre sconfitte di fila beh ripeto come nella normalità di quando insomma si subisce una sconfitta le prime giornate passano cercando di eliminare scorie tra lo stesso tempo ho cercato come sempre fatto anche nelle vittorie di trovare giusto equilibrio e ci siamo alternati in quelle che sono stati dei confronti un po più decisi piuttosto che degli allenamenti un po più mirati a quella che però poi deve essere secondo me una cosa che ci deve accompagnare perché manca ancora tanto e che dobbiamo ritrovare assolutamente c'è un'armonia sulla base di uno spirito e di una mentalità che ci ha permesso e ha dimostrato che possiamo essere competitivi contro tutti quindi al cospetto di un avversario molto forte non vediamo l'ora non vediamo l'ora di confrontarci e di mettere in campo ripeto tutti questi elementi se cosa è cambiato nelle ultime tre partite rispetto alle nove precedenti in campionato dovevate sempre fatto risultato perché forse il cinismo quello che in realtà più salta all'occhio perché probabilmente dal punto di vista delle prestazioni non avevate brillato dal punto di vista del gioco neanche nelle nove partite precedenti però dal punto di vista delle occasioni sfruttate eravate stati molto più bravi beh di sicuro poi quando si analizza una partita si fanno tante percentuali di tante componenti e diventa diventa complicato poi fare emergere quella che ha determinato risultato positivo piuttosto che negativo di sicuro è un dato che insomma salta all'occhio dove al di là di quella che sono state le prestazioni nella nostra gestione pale e soprattutto nella cattiveria in più lucidità dell'ultimo quarto poi ha differenziato i due periodi come ci siamo detti alla ripresa cominciava ha cominciato un altro campionato oggi è evidente che siamo in un periodo transitorio e dobbiamo essere bravi dobbiamo essere bravi a gestirlo perché chiaramente ci sono tanti elementi che possono condizionare e senza dimenticare che rispetto alle altre comunque noi dobbiamo ci portiamo dietro e ci porteremo dietro per tutta l'annata un periodo rispetto alle altre che dobbiamo dobbiamo gestire al meglio e mi riferisco insomma ad una prima parte che comunque ha condizionato una stagione per quello che è stato il cambio di proprietà per quello che sono insomma state lo stesso il cambio dell'allenatore e allora abbiamo dimostrato di saperlo fare ecco spesso si parla di cosa non di cose difficili e di cose semplici ma di quello che sappiamo fare e quello che non sappiamo fare abbiamo dimostrato di saperlo fare e quindi domani è ora di ricominciare a farlo so che siamo a una vigilia di una partita ma ci vediamo solo in queste occasioni quindi la domanda sul mercato è scontata si aspettava di avere già qualche pedine in più o me l'auguravo e lo speravo però sono anche molto coinvolto perché me lo permette i dirigenti me lo permettono i direttori me lo permettono di avere dei confronti costanti e quindi comprendo le difficoltà appunto di questo periodo transitorio di cui parlavo e dove chiaramente tutti stiamo cercando di chiuderlo al più presto possibile perché poi per ogni allenatore la cosa fondamentale in questo in questo mese di gennaio è quello di arrivare nello spogliatoio uscire chiudere la porta e dire loro ecco adesso comincia un altro periodo perché questi siamo prima di allora inevitabilmente dovremmo avere la capacità di gestire anche questi questi aspetti mister sia la sensazione da fuori che questo rimini se con l'uomo in condizione in forma e con diciamo con l'assetto che si era trovato fino a 45 domeniche fa sia piuttosto competitivo e se con alcuni uomini di punta che scendono di forma e altri che mancano sia molto meno competitivo c'è c'è una certa differenza tra i rimini top che se la gioca con tutti e un rimini perché sono anche i valori nello sport no non è che qualsiasi giocatore tu metti sostituisci esattamente l'altro quindi la sensazione che sia fuori è questa che quando manca qualcuno altri sono fuori condizione il rimini perde molto beh in linea generale è un'osservazione molto giusta perché in ogni squadra ci sono dei valori di di calciatori a livello individuale però abbiamo anche dimostrato in tal senso che poi spesso giocando ogni tre giorni ci sono stati degli innesti che hanno giocato meno e comunque il livello è rimasto competitivo oggi è molto evidente che stiamo attraversando ancora una volta un periodo transitorio dove all'interno di questa di queste valutazioni il rendimento individuale linea generale dimostrato è andato al di sotto al di sotto di quelle che sono state poi di quello che è stato lo standard e quindi è nostro dovere soprattutto mio dovere in qualche modo cercare di trasferire al meglio quelle che sono componenti in grado poi di rialzare questo livello individuale di conseguenza collettivo e chi mancherà domani? Beh Capanni abbiamo recuperato Marchesi mancherà Rosini Tofanari che sta disputando un tempo con la primavera e quindi ha disputato una settimana la prima settimana parziale con la squadra e si chiuderà oggi con questo con questa partita e quindi dalla settimana prossima sarà sarà a pieno regime abbiamo recuperato a Cursi rientra Semeraro dalla squalifica e a memoria ecco poi sono tutti a disposizione con una settimana dove anche lì dovrò valutare un po' qualche condizione di qualche calciatore in particolare che è riuscito ad allenarsi parzialmente ma che comunque prenderà parte alla convocazione e alla che è la disponibilità della gara.